Lo hanno trovato a Ponte Murello, vivo e in buone condizioni di salute. Sisto Marinelli, 78enne scomparso martedì da Muraglia di Pesaro, è stato rintracciato dopo ore di apprensione da due persone residenti a Sant'Anna di Cartoceto che stavano percorrendo in auto alla Via Flaminia. L'uomo intorno a mezzogiorno era stato accompagnato dalla moglie da un vicino di casa in ospedale per una visita oncologica, ma il protocollo anticontagio non permette ai familiari di entrare. Così lo avevano lasciato all'ingresso. Poi però, non vedendolo più uscire, erano nati i primi dubbi e le preoccupazioni. Nel nosocomio la visita risultava effettuata, ma dell'anziano nessuna traccia. Dopo aver sporto denuncia erano scattate subito le ricerche che nelle ultime ore si erano concentrate a Monbaroccio, luogo in cui era stata agganciata una cella telefonica. Marinelli infatti aveva con sé il cellulare. Ad una precedente telefonata dei carabinieri aveva risposto che stava portando la macchina dal meccanico. Purtroppo, a causa di una demenza senile, il 78enne non era riuscito ad indicare dove si trovasse. Poi, nel pomeriggio, una vicina di casa aveva contattato FanoTV per lanciare un appello tramite il telegiornale Occhio alla Notizia. Sia lei che la figlia di Sisto, che abita in Svizzera, avevano chiesto a tutti i cittadini di collaborare nelle ricerche, contattando la polizia nel caso di avvistamenti. E così è stato, grazie alla foto che abbiamo mostrato, è stato riconosciuto intorno alle 22 da Ottavio e Roberta. E' stato lei ad averlo riconosciuto? Sì, perché ho visto la trasmissione su FanoTV e portava proprio il giobbotto di pelle e i jeans, come ha detto in trasmissione, via. E lei stava rientrando in casa? In casa, che eravamo stati in farmacia a prendere delle cose e l'ho riconosciuto lì e poco più su di Carrara. Ed eravate insieme, giusto? Sì, eravamo insieme. Tanto è vero che a mio marito gli ho detto, ma sei sicuro che lui? E lui mi ha detto sì, sì, perché le indicazioni che avete dato su FanoTV erano identiche. Il giobbotto di pelle, la barba e poi non l'abbiamo più lasciato da lì perché si vedeva che era perso. Viaggiava tranquillamente, però si vedeva che guardava i segnali stradali, era una persona insomma un po' vagante. Si è visto subito che non era proprio tranquillissimo. Ho trattato prima di tutto a Francesco Masciale, un carabiniero di Saltare, che lui mi ha chiamato quelli di Fano. Poi quelli di Fano erano impegnati, è venuta la questura, comunque poco dopo sono arrivati via. E poi l'hanno portato via? L'hanno portato via. Vi hanno ringraziato? Sì, sì, come non l'hanno chiamato a voglia, fu molto molto gentile, sono stati molto bravi. Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata la volante che ha portato l'uomo al commissariato di Fano, diretto da Stefano Seretti, dove è arrivata la nipote per il riconoscimento. Marinelli stava bene, non ha avuto bisogno di cure ed anzi non era né stanco né infreddolito. Pensate che aveva percorso a piedi ben 33 chilometri. Dall'ospedale di Moraglia, dal quale probabilmente era uscito da una porta secondaria, si era diretto verso Novilara. Poi Sant'Anderenvillis era sceso per Fenile, aveva proseguito in direzione Santa Maria dell'Arzilla e ancora a Monbaroccio, Carrara fino al distributore di metano e infine sulla Flaminia. Ai poliziotti che lo avevano raggiunto, ha risposto che doveva tornare a casa per dare da mangiare ai polli. Per fortuna era solo confuso e preoccupato, ma in buono stato di salute. Mio marito si è sempre prodigato per gli altri, tanto è vero che ha ritrovato anche un'altra persona, un nostro vicino di casa che si era perso lo stesso e quindi è nella sua indole aiutare il prossimo. E questo spero che sia un esempio per tutte le persone. La moglie di Marinelli, che non se l'è sentita di apparire in video, ci tiene a ringraziare tutte le forze dell'ordine e coloro che si sono mobilitati per far sì che questa vicenda si potesse concludere con un lieto fine.